Non ti emozionare, sarò anche lì ogni tanto che tifo, vabbè tiferemo tutti, due baci e in bocca al lupo Laura, ciao, ciao Questo Natale c'è una novità straordinaria per comunicare in un modo tutto nuovo Con i nuovi telefonini MS puoi creare tanti messaggi multimediali con le immagini e i suoni che scegli tu, solo continuo Vorrei poterti amare fino a quando tu ci sarai Sono nato per regalarti quel che ancora tu non hai Così se vuoi portarmi dentro al cuore tuo Tanti auguri Se osassi lasciarmi andare Che male ci sarebbe La vita non è bianco e nero E' oro J'adore J'adore Le nouveau parfum de Christian Dior Altro oro Ma cosa si mangia? Zanzibar Sperlari, cioccolatevi Trasformi l'oro in cioccolato Meglio di remisa Vorrei una cosa che comincia però e finisce per ricchio A A Allora E Auricchio Bravo Ma come lo voglio? Giovane Come lo mangio? Alla piastra Sei un campione Auricchio Se non lo vedi, non ci credi Acqua lette Ricca di piacere Buone feste Povera di sodio Per lui Per lui, per lei Due profumi Emporio Armani Ovunque, in qualunque momento Puoi dirlo con i fiori Interflora te lo permette Interflora in tutto il mondo Anche su internet Punto di un diamante Sta bene dovunque Dolce e cabana Parfum Mi chiamano Giamburrasca E a volte anche Nero Io invece devo dire Che cerco di ubbidire E anche di imparare La buona educazione Uffa Giamburrasca Giamburrasca Sol perché Ce l'han tutti Con me Laura Pausini In concerto È presentato da Quentro Sole di mezzanotte Nottingham Le donne Intime tentazioni E a volte anche La buona educazione La buona educazione Grazie.